ci siamo ho usato io ho lanciato il tiro del comando vediamo di far bene ha 27 minuti per essere fuori di aria di bordo numero uno allora ci siamo mi raccomando eh torniamo mani piene con la coppa con le coppe ciao noi andiamo il fumino degli sfigati voi siete col più figo non è giusto signori ci siamo quasi viaggio della speranza allora aggiornamenti 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 niente adesso siamo road to all'albergo stiamo seguendo sto pulmino io spero che vada nel posto giusto lo stiamo seguendo da bologna signori siamo quasi arrivati anzi siamo arrivati in croazia abbiamo attraversato l'oceano atlantico adesso ci manca che scendere perché siamo arrivati all'albergo abbiamo fatto il riconoscimento lì al campo quindi l'iscrizione ufficiale di questo torneo in croazia e adesso siamo arrivati all'albergo siamo arrivati siamo arrivati let's go let's go 1 euro 1 euro 1 euro come posso fare l'ha fatto con te domani? grande tu sei lì tu sei uno dei migliori dal migliore a uno dei migliori bellissimo questo ritardo non va bene questo ritardo ah diglielo 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 lui no no mi serve effettivamente basta quanti gol fai domani? 5 peccato se sei in panchina o? no allora Chris è pronto a mangiare e mangiare bene campione? oh che bel menù che bel menù prego prego offre a croazia signori mangiate poco eh bimbi oh mangiate poco eh mangiate poco eh un macello di mangiare poco eh allora prima cena di questa esperienza prof op bene diario di bordo numero 1 ciak azione prima giornata di questa magnifica avventura allora ragazzi siamo qua con i nostri enjoyini 2011 siamo arrivati oggi giusto? si mi si è fatto il vinto allora siamo arrivati oggi dopo un lungo viaggio da Bologna siamo ufficialmente in Grazia allora come è andato il viaggio innanzitutto? bene 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 eravate tutti in pulmino? si siamo tutti sopravvissuti? si ok bene allora cosa vi aspettate da questa avventura? di giocare bene fare delle belle prestazioni divertirci di vincere di divertirci di stracciare i croati migliorare dai divertirci fare tutto fare tutto vincere com'è andata la cena? bene bene allora ragazzi domani mattina sveglia presto alle sette e mezza ok alle sette voglio svegliare io ma te svegliate alle sette e non lo sveglio va bene ci vediamo mi raccomando ragazzi andate a dormire ci vediamo direttamente domani carichi siete carichi però si siete sicuri? si siete sicuri? si allora domani mattina dai si com'è andata questo viaggio? perché dalla regia mi hanno detto che avete dormito molto non è vero non abbiamo dormito non ci sono neanche prove che abbiamo dormito vero? è verissimo mamma mia ma quanto sono colti questi? doping un commento? c'è un grissin bone un grissin bone? è bianco è tutto bianco è tutto bianco gira così ho aperto la porta per vedere se è ancora qua era così qua di fronte alla mia porta ma mi sei che non ho questo è il perfumore così è che te la sembra mi stia io mi cago sotto oh oh ma se vuoi ti chiudiamo dentro preferisci che ti chiudiamo dentro? l'hanno fatto si mi fai uno scherzo ma che scherzo? eh che scherzo notte ma che notte? buongiorno dormire devi ammazzarla mister ma ci diventiamo un trigeco si un trigeco si tagliare a metà mister fai tutto si si ammazzare ammazzare sei sicuro di questo geco? no no giuro mister mister gli ho lanciato il telecomando no mister l'ho pure preso quasi l'ho lasciata ce l'avevo addosso sulle coperte ma non so no no giuro mi sono alzato ho urato vi ho lanciato il telecomando se scappate via ho iniziato a bustare la porta giuro che stiamo? io sono un po' di chiudere non ho il batman tanto di respirazione signori è già mattina signori è già mattina è già mattina è già mattina è già mattina buongiorno ma sono già sveglio buongiorno andiamo veloci veloci questa è la camera dei professionisti eh? no devi scarci che ci pensa lui a svegliare? buongiorno cucciolino buongiorno avete sette minuti per essere fuori eh? Dazzo dai 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 ciao capite? hai sette minuti buongiorno anzi di meno avete cinque minuti cinque minuti ma Paolo non dorme col cappello oggi una bella colazione buongiorno buongiorno non esagerare non esagerare andiamo a vedere un po' cosa hanno preso i ragazzi allora Tiago allora posso tutto a posto posto? si è ma sveglia troppo presto mi piace ma non so di niente appunto ci siamo tutto pronto stiamo andando verso la meta verso la rotta oggi signori primissima giornata di torneo siamo carichi ci siamo senza il mestre della sapienza non si va avanti ci siamo siamo arrivati ragazzuoli ci siamo siamo appena arrivati qui ai campi dove si svolgerà questo grandissimo torneo è un torneo internazionale perché ci sono tantissime squadre di altri paesi e non solo e ci sono anche squadre italiane signori abbiamo quattro gironi a b e c e d e siamo finiti nel girone b per cui quattro squadre tre partite andremo a giocare contro due italiane e una tedesca la cosa particolare di questo torneo è il fatto che le prime solo le prime di ogni gironi andranno a concorrere per i primi quattro posti per cui ahimè il secondo posto non basta nelli irting chi non いき Noi 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 Vivo e ffarti, ce l'hai mandalo, mandalo Vai a giro Va bene, Va bene, Va bene Sì, 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 forte, forte! Dai, 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 dai! Sì, ora, ora sopra! Dai, 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 dai! Sì, uno, due! Uno, due! Dai, dai, dai! Aiutati! Bravo, Diego! Bravo, Cristiano! Mister, cosa ne pensi della persona? Sono stati bravissimi, sono stati bravissimi, sono emozionato! Queste cose mi toccano, sono bravi, sono bravi, sono bravi! Oh, siamo svegliati tardi, eh! Dai, 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 dai! Sono bravi, hanno fisicità, usiamo la testa, ok? Ok, intelligenza! Mi raccomando, dai, dai, dai! Dai, dai, dai! Sali, Diego, sali, Diego! Sì, c'è! Oh! 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 Secondo palo! Va bene, bravo, bravo, bravo! Sali! Sali, sali! Sali, sali! Sali! Dai, dai! No! Dai, 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 dai! Dai, 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 dai! Dai, dai! Sì, dai, dai, dai! Sì, dai! Gioca! 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 Ragazzuoli, si è concluso la primissima partita dei nostri ragazzi. Un bel pareggio, eh? Un bel pareggio in questo bellissimo torneo in Croazia. Guardate quanti ragazzi ci sono. Per quanto riguarda come hanno giocato i nostri ragazzi, hanno giocato abbastanza bene. Forse erano un po' troppo agitati perché abbiamo sprecato due o tre occasioni veramente nitide. Però ci sta, è la prima partita del torneo. Sono partite molto brevi quindi non ci si può permettere errori. Giusto. O fai gol o non fai gol, o lo prendi o non lo prendi. Noi abbiamo peccato un po' davanti alla porta e questo ci ha portato a un pareggio che secondo me poteva essere tranquillamente una vittoria. Testa alla prossima, abbiamo due match importanti adesso quindi vediamo di fare bene e di essere lì con la testa fin da subito. Oggi andremo a giocare due partite e domani solamente una perché dopo avremo finito la fase a gironi e andremo eventualmente a fare le fasi finali. Ragazzi adesso andremo a giocare contro i tedeschi e vediamo di fare bene anche in quest'altra partita e ci vediamo subito dopo signori. Dai. Dai dai porta, porta. Bravo. Calma. Solo. Si. Si. Taglia, 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 taglia. Dai Diego. Calma. Chiudi, chiudi, chiudi. Bravo. Solo, solo, dietro. Calma. Vecchio ordine. Si, si, si. Calma Diego, calma Diego. Bravo. No. Dire, hai preso prima la palla, dire. Ottimo il passaggio eh. Si. Molto bene, molto bene. Ora, ora, ora. E' giusta, è giusta, è giusta. Cristian. Si, si, di testa. Bravo. Grande balli. ce l'hai via le volenti via le volenti resettiamo, non possiamo vivere col passato fischiamo, ha fischiato, donna, resettiamo forza, se fate uno, due, andate sempre in porta sempre dai, 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 dai che abbiamo vincito dai, 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 dai mandalo, mandalo bravo, bravo Marci bravo, bravo Marci bravissimo, bravissimo buca e va via se è in porta dai bravi scappo, scappo, scappo Torra, 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 torra torra, torra, torra Giocca, 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 Giocca! Giocca! Giocca, Giocca! Giocca, Giocca, Giocca! Giocca, Giocca! ragazzuoli grandissima grandissima vittoria per noi in questa seconda partita di questo girone era importante vincere dopo il pareggio e ce l'abbiamo fatta grandi 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 sono felicissimo perché ci lascia sperare per la prossima partita per la terza quindi secondo me potrebbe essere fondamentale questa vittoria anche perché dovremmo poi agganciare la prima in classifica si è conclusa qua questa primissima giornata di questo primissimo giorno di torneo allora andiamo in albergo da riposarci un attimino e poi carichi per la giornata di domani let's go grazie a tutti